Ciao a tutti, allora, beh, e la musica in sottofondo assolutamente non poteva non esserci, essendo una radio, ma perché sono qui, sono a Fossano per il Giro d'Italia, la tappa, l'arrivo, siamo proprio sotto l'arrivo in questa grande volata, beh, intanto è per raccontarvi un po' quello che succederà in questa Fossano ormai dipinta tutta di rosa, ma sicuramente anche il dietro alle quinte, insomma un lavoro veramente pazzesco e come vedete stanno ancora lavorando, per allestire, nonostante insomma la tappa del Casco sia quasi partita, quindi noi saremo qui anche al termine di quella che è l'arrivo, previsto oggi intorno ai 17.30 e poi insomma nelle nostre dirette parleremo sicuramente di che cosa vuol dire il Giro d'Italia, che cosa è anche il Tour de France, quindi quali sono i giri in bicicletta e se voi siete amanti o meno delle biciclette, perché insomma si parla tanto di bici, ma poi bisogna avere gambe per poterci andare, va bene, insomma con i furgoni che passano, con la Fontana Rosa, con i bimbi, anche perché qui oggi è festa patronale, io vi saluto, vi aspetto come sempre nelle nostre dirette, ciao!